Allora siamo alla fine di un percorso influenzale che non ha colpito solo me ma pare a bia mietuto vittime un po da tutte le parti quindi io adesso te lo devo dire con la tosse proprio il colpetto che mi partirà ma se mi parte un colpo di tosse a sto livello t'ammali cioè te lo dico pure se guardi il video che la verità nuda e cruda molto cruda e che io febbricito. Allora stamattina mi sono segnato di dirvi alcune cose che riguardano l'index coverage da che tu sai che se fai questo mestiere ti stanno arrivando negli ultimi giorni e a me ancora continuano delle comunicazioni dalla search console rispetto alla abilitazione della nuova versione della beta della nuova search console soprattutto interessante rispetto alla nuova lettura della scansione cioè degli errori di scansione e dunque nella precedente versione in quella che stiamo ancora usando e che secondo me useremo ancora per un po' c'è fondamentalmente la proposizione degli errori 4xx cioè degli errori di tipo 400 quelli legati alle pagine non trovate per qualche motivo agli errori 500 cioè gli errori server 5xx e ai soft 404 che ricordiamolo sono più gravi rispetto ai 404 normali perché attengono a pagine che restituiscono un codice stato 200 cioè siamo vivi e stiamo bene tuttavia sono pagine bianche pagine vuote pagine che non servono quindi andrebbero messe in 404 invece non lo sono e allora me lo sono segnato lo troverai nella nuova versione l'index coverage cioè la copertura dell'indice che vuol dire nel momento in cui tutti i tuoi contenuti tutte le pagine del tuo sito sono in pancia di google cioè sono indicizzate risultano allo stato dell'indicizzazione potresti notare che abbiamo una suddivisione una segmentazione dei tuoi contenuti per tipologia e allora andiamo a vedere cioè l'errore di reindirizzamento che prima non c'era cioè ti segnala il reindirizzamento fatto male segnala la pagina esclusa in base a no index esclusa cioè non conteggiata perché si trova in no index noi sappiamo che in realtà google scansiona comunque le pagine in no index però le può escludere dal suo indice le pagine canonicalizzate e anche quelle duplicate senza il canonical questa cosa del canonical è importante perché diciamo lo abbiamo utilizzato un po alla sans frisson cioè abbiamo usato il canonical in modi singolari o perché non eravamo abbastanza pratici di tassonomie incrociate o per nascondere la polvere sotto al tappeto abbiamo canonicalizzato come se non ci fosse un domani google si accorge che ci sono dei canonical usati in modo improprio e li segnala nella copertura indice poi c'è una cosa c'è una cosa che mi fa impazzire anomalie durante la scansione che io lo leggo qua c'è scritto proprio anomalia durante la scansione che tu stai la tu bot tu stai seguendo la pagina e a un certo punto trovi un'anomalia e non ti dice non ti dice qual è ti dice che c'è l'anomalia quindi tu vivi malissimo perché non usi altri strumenti come facciamo noi per 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 capire quali possono essere le anomalie i tappi dietro a una scansione alterata e c'hai però l'index coverage che ti dice anomalia durante la scansione è una specie di pulsante un campanello rosso tipo si è rotto qualcosa nel generatore di diffusione stiamo per esplodere probabilmente forse no tu però tranquillo non è successo niente poi ci sono le pagine scansionate ma non indicizzate cioè le pagine che lui segue normalmente ma che non ritiene opportuno indicizzare perché sei troppo scemo perché hai fatto delle robe troppo lascia sta ma che devo fare questa cosa la scansione si però cioè tu vuoi farmi sprecare il tempo mio per indicizzare questa cosa che ma chi se ne frega sta cosa ma chi perché devo indicizzare sta cosa in realtà non è per forza così ora io mi sono segnato questa bella lista qua sopra e tu potresti pensare che è tutto fantastico perché finalmente google matura cresce eccetera salvo che non è funzionante al cento per cento tutte queste bellissime indicazioni che io sono andato a vedere in almeno una decina di casi di siti web che ho aperto con la nuova search console per dare un'occhiata e non sono precise queste indicazioni nel senso gli errori riportati di reindirizzamento non sempre sono errori gli errori riportati per le canonicalizzazioni scorrette mica sempre le anomalie di scansione lascia stare perché quelle sono anomalie di scansione così come i contenuti scansionati ma non indicizzati non è vero io ho trovato dei contenuti segnalati in quel segmento dell'index coverage che tuttavia avevano la loro bella copia cache ed erano assolutamente visibili su google quindi erano compiutamente indicizzati e dunque che vogliamo dire che questo upgrade è fatto male no semmai vogliamo dire che la complessità in cui si muove google per le sue analisi è tale da richiedere un tempo lungo quindi io accolgo con grandissimo piacere questa modifica della search console perché è fondamentale però noi continueremo a intrecciare almeno secondo me per tutto il 2018 i dati di scansione che vengono da screaming frog da analytics dalla search console e poi matcharli insieme perché credo che al momento sia ancora l'unica strada per avere una lettura sobria inferenzialmente valida della scansione di un sito il futuro è avvincente il futuro è sempre meglio perché la nuova search console promette veramente tanto al momento mantiene abbastanza poco di quello che ha promesso però noi restiamo sul pezzo perché facciamo seo e non potrebbe essere diversamente